Avevo sette anni, in realtà io andavo a scuola dai preti al Don Orione e ogni Pasqua facevano la passione di Cristo con tutti i ragazzini, io facevo la prima elementare e mi hanno preso a fare per fare il bambinetto che saltava con gli olivi intorno a Gesù, sono salito all'assombra, mi è piaciuto talmente che ho chiesto a mia madre che volevo fare l'attore, mia madre ha tentato di dissuadermi, di dire che gli attori mangiano la verdura, non mi piaceva la verdura, tutte queste cose, a quel punto rassegnata mi ha mandato ad una scuola di recitazione di una certa signora Lilli Deramo e lì è cominciato, mi è piaciuto, poi mano a mano ho cominciato a fare un pochino di doppiaggio e da lì, dopo aver fatto teatro, un po' di televisione, mi sono dedicato completamente al doppiaggio. Quando ti chiamano a doppiare un personaggio le prassi sono varie, ci sono le due teorie, parliamo di un personaggio importante ovviamente, c'è il direttore che ti fa vedere il film e il direttore che non ti fa vedere il film in modo che tu non incidi con la tua testa e quindi il direttore ha in mano tutta la situazione globale, per esempio per i Blues Brothers abbiamo visto il film perché era un film poi talmente strano, talmente diverso, parliamo di vent'anni fa talmente particolare per cui la savagnone che faceva la direttrice chiamò sia me che Massimo Giuliani che doppiava Belushi, per vedere il film e tutti insieme decidere se era un gran capolavoro o una grande fregnaccia, detto la romana, era un capolavoro. Il direttore e dialoghista iniziale del grande Mazinga era Enrico Bomba, Enrico Bomba e noi abbiamo cominciato, Bomba era un buon romano, di quelli che feceva, è arrivata sta roba, ma non so che è, e abbiamo cominciato a farlo, oltretutto in alcuni casi anche inventando certe che erano intraducibili e niente, quindi abbiamo cominciato e mano a mano questa serie continuava, era sempre più successo, hanno fatto il film, quindi noi all'inizio l'abbiamo preso un pochino, diciamo, sotto gamba, nel senso che non abbiamo dato il valore che poi avrebbe avuto. Ti dirò una cosa, quando pochi anni fa io ho ridoppiato Mazinga dicendo scusate, Tetsuya, dicendo scusate ma il cartone animato rimane ventenne, hanno detto no, no, non importa, vogliamo la voce tua e abbiamo fatto, mi pare, tre turni, al secondo turno li ho salutati perché sono andato via e quando mi è ritornata sono tornato, è vero. Ovviamente di tutte le cose che ho fatto, di tutti i cartoni, specialmente quello che ricordo con più, ma neanche gioia, però mi è piaciuto moltissimo fare il di Oscar, chiaramente è stato un cartone particolare, ancora adesso mi chiamano per Lady Oscar, nonostante siano passati parecchi anni, perché era comunque un personaggio particolare, sicuramente, mi è piaciuto farlo e poi abbiamo fatto anche il film di Lady Oscar con gli umani e poi hanno fatto, mi pare, un'altra volta anche un altro, forse hanno racchiuso un po' tutte le puntate, sì, un po' di tempo fa e abbiamo ridoppiato anche quello, anche quello è stato molto emozionante, devo dire. No, di Lady Oscar mi ricordo che l'interpretazione di Luigi 16, ho vinto un premio dal fan club di Lady Oscar, è bello magari una cosa che tu hai fatto, confesso, anche velocemente, al quale magari non hai dato lì per lì il giusto peso, la giusta importanza, se non quella del tuo lavoro, della tua professione, no? E vedere dopo tempo, appunto, che ti viene riconosciuto però il tuo lavoro, il tuo impegno è una bella soddisfazione, devo dire. Io feci Giaccian e Sandro Cerbo fece Enrique Polimar. E lì era, esatto, quel periodo, Enrique Polimar che lo doppiava, se non sbaglio, Acerbo, Sandro Acerbo. Io lì feci alcuni dialoghi, che era la prima volta che mi dilettavo a fare qualche dialogo e lì feci qualche dialogo. I Simpson, più recentemente, sono talmente carini, però io non facevo neanche un personaggio così divertente, per cui, insomma, ero un po' più, sì, fatti bene, ma più routine. M'ero sposato da poco e passavo in cooperativa insieme a mia moglie, attraversava Pinolocchi, Pinolocchi è quello che doppiava Janus Bond e è un piccoletto, stava col trencetto e ho detto a mia moglie, dico, vedi Gianna, quello doppia James Bond. Le ha fatto no. Questa è la grande capacità del doppiatore. Io definisco i doppiatori quelli veri, quelli bravi, gli altri impareranno. Se io facessi parte, qualora facessi parte della prima categoria, lo devi studiare un pochettino, lo devi studiare, devi capire come si muove. Io ho doppiato un film dove doppiava un attore francese, Léon, e più che sulla bocca, l'ho doppiato sugli occhi, perché lui faceva una specie di matto. In realtà, mi pare, Jean-Pierre Léon, lui era stato proprio anche in una clinica psichiatrica, era un attore da guardare negli occhi e capivi tutto. La bocca, sì, certo, devi prendere, le labiali, ma erano gli occhi che ti dicevano esattamente quello che bisognava fare. Abbiamo parlato dei Blues Brothers, mi piace ricordare il grande freddo dove doppiavo Goldblum e mi ricordo proprio il direttore Ramaglio De Angelis e mi ricordo che visto questo film io dissi, dico, questi giovani vanno tutti tenuti d'occhio perché questi escono tutti, cioè diventano tutti importantissimi, vengono tutti di una bravura, al di là che era bello il film, ma tutti di una bravura incredibile. E quando l'attore è bravo, tu sei facilitato, perché ti indica già la strada, ti indica tutto, non devi tradirlo mai e questo è già molto. Dico l'ultima, io ci tengo a un film, a Fuga per la Vittoria, dove ho doppiato Pelè e in questo caso ti dico l'aneddoto. L'aneddoto è con Ferruccio, col paolo Ferruccio Amendola, lui doppiava Stallone e siccome tutti tenevano a doppiare Pelè e la fortuna è toccata a me, venne lì Ferruccio e mi disse, pie, te do Stallone e mi dai Pelè? Ecco, questo è un aneddoto. Ritengo che sia stato importante un direttore, un vecchissimo direttore che come individuo era un po' rognosetto, un certo Giulio Panicali, perché era molto scorbutico con noi bambini, però ci insegnava un sacco di cose, siccome nasceva il nuovo modo di doppiare dai Robert Taylor, da, diciamo che dopo poco sarebbe nato il Dustin Hoffman, quindi la nuova cinematografia, lui ci ha insegnato molto, a me, io credo anche a Massimo, a Roberto Chevalier, a tutti quelli a Nicotter, quelli che allora eravamo giovani, ci ha insegnato a parlare, parlare come nella vita, recitando però parlare. Affronto sempre molto seriamente tutto. Io sono fiero di essere sicuramente, questo lo dico proprio senza il minimo di umiltà, sicuramente di essere un professionista, vero, serio, ecco, un gran professionista. Dopodiché la gente decide se sono bravo, se non sono bravo, lo sanno loro. Sono 50 anni che faccio questo mestiere, ancora mi piace, ancora mi dà emozione se trovo certamente una cosa bella, mi diverte ancora fare il direttore se trovo una cosa bella da fare, certo, no? Il filmettino brutto, però anche in quel caso io l'affronto molto professionalmente e in quel momento è il più bel film del mondo, poi è quello che è. Dunque sto tentando, visto che non so più di primo pelo, sto tentando un pochino di rallentare, riprendere un po' i tempi della vita, tranquillo, andare al mare di mercoledì invece che di domenica, per cui non trovi il traffico e cose del genere. Ho finito adesso una direzione di una serie comica molto carina, faccio qualche dialogo e basta, in realtà non mi occupo di altro. Non ho grandi sogni nel cassetto, no, no. Il sogno vero è, ti ripeto, recuperare proprio i tempi. Io sono un cittadino cronico, non andrei mai a vivere in campagna, però se posso non uscire la mattina che trovo 6.000 macchine intorno a me, ecco, questo è uno dei sogni, se riesco a condurre la vita in questo modo, senza diventare imbambito, uno esce, si muove. Grazie. Grazie. Grazie.